È stata una lotta dal primo al novantesimo minuto, ci sono state varie occasioni, potevamo sfruttarle meglio, però sempre un punto a casa ci siamo portati. Però il Modena oggi non è stato quello delle ultime trasferte, è anche un po' troppo arrendevole, oggi il Modena ci ha provato fino alla fine. Molta voglia di riscattarci da questi pareggi sempre fuori casa, sì loro sono una squadra compatta che sta dietro, ci aspetta, si erano chiusi molto nel finale, abbiamo cercato di provare a segnare varie occasioni, cercheremo di portarci a casa i tre punti nel nuovo inizio del campionato. Il bilancio per te è molto, molto positivo, secondo me mai ti saresti aspettato all'inizio della stagione di ritagliarti così tanto spazio e di farlo come lo stai facendo da protagonista? No, l'importante secondo me è allenarsi costantemente, con forza e senza mai mollare, quindi restare lì concentrati sull'obiettivo da raggiungere. Dal punto di vista personale sei stato convocato in nazionale, c'è stato questo bello stage con i migliori giovani della Serie D? Sì, sono stato convocato a Roma per uno stage di due giorni al Mancini Park Hotel, è stata una grossa esperienza, bellissima, quindi spero di tornarci.